Si recuperano oggi le gare della prima giornata del girone di ritorno del campionato di promozione Girone A non disputate domenica scorsa a causa neve. In programma Ares Menfi Camerat, 5 Torri Trapani Canicati e Libertas Partinico Odace. Riflettori puntati sulla sfida tra i biancorossi del Canicati, allenati da Giovanni Falsone, in programma sul neutro di Paceco con inizio alle 18.30. Con la sconfitta del Raffadali, i biancorossi vincendo raggiungerebbero i gialloverdi in vetta, riaprendo di fatto il campionato. Mister Giovanni Falsone questo lo sa bene e per la trasferta trapanese non vuole cali di concentrazione. Partita molto importante, vogliamo raggiungere la vetta, afferma il trainer. Il vero campionato inizia adesso, molte squadre si sono rinforzate e la nuova Sancis mi ha subito dato la conferma battendo il Raffadali. 5 Torri, squadra che ha cambiato molto, che non ha nulla a che vedere con la rosa di qualche settimana fa. La Libertas da Calmuto ospita al comunale di Grotte, il Partinico Odace, allenato da Mimmo Bellomo, fischio d'inizio alle 14.30. Una sfida ad alta classifica, con la Libertas che in caso di successo potrebbe accorciare le distanze sulla capolista Raffadali, sconfitta nell'ultimo turno a San Giuseppe Iato. Infine il derby tra Menvi e Camerat, che potrebbe riservare tante sorprese.